La tematica della felicità, la ricerca della felicità, che è il tema che ci sta accompagnando in questi nostri passi, in questo nostro cammino, che è un tema che tutti, come ho ripetuto già altre volte, abbiamo nel cuore. Anche quando tentiamo di soffocarlo è inutile perché l'uomo vive e lotta per essere felice. Però, come giustamente ha detto qualcuno, molte volte si vive e si lotta in situazioni sbagliate, perché pensiamo che in quella maniera riusciamo ad ottenere la felicità. E quindi dobbiamo essere diffidenti, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo essere liberi per poter comprendere qual è la felicità. Per noi cristiani è quasi scontato, ma questo non è un bene, perché non ci porta poi a lottare, è quasi scontato dire che la felicità è vivere il Vangelo, che la felicità è seguire Gesù. La felicità è Gesù stesso, quindi dovremmo passare da seguirlo a lasciarci possedere da Lui, della sua vita. Cioè, quando è che io sono felice cristianamente? Quando ho gli stessi pensieri di Gesù, quando ho gli stessi sentimenti di Gesù e quando vivo gli stessi sentimenti di Cristo. E chi non è cristiano? Non ha diritto alla felicità? Chi non è cristiano e ha e crede in altre fedi, troverà anche lì la via della felicità. Poi possiamo discutere. Ma chi non è credente? Chi è agnostico, indifferente? Come fa a sapere qual è la felicità vera? Io credo che noi cristiani e noi credenti abbiamo una grande responsabilità, la testimonianza della felicità. Se noi siamo un popolo di musoni, come diceva Bernanò, noi non convertiremo nessuno. Meglio, noi di per sé non convertiamo nessuno. Ma noi non saremo segno per nessuno. Se invece siamo il popolo della gioia, siamo il popolo della gioia dei figli di Dio. Quella gioia, come già ho detto altre volte, nasce dalla croce. Quella gioia che nasce dal dolore che si fa offerta. Bene, se tutto ciò nasce dal cuore di Cristo, dal mio lasciarmi possedere da Cristo, è chiaro che io potrò essere testimone per l'altro. Mi vengono tante immagini e tanti, come dire, personaggi in questo momento. Certamente da Padre Pio, ma Mare Teresa di Calcutta. Quante persone hanno cambiato vita perché la vita di questi due santi, ma ci potremmo mettere tanti altri santi, ma tantissimi veramente, Oscar Romero ultimamente, Paolo VI altrettando, Nuzio Supplizio altrettando, Domenico Savio, eccetera, 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 ma tantissimi santi. Bene, quante persone hanno cambiato vita solo vedendo la gioia, non dei gaudenti, ma la gioia di chi è posseduto da Cristo, hanno cambiato vita e hanno conosciuto e intrapreso la via della vera felicità. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!